Dopo un esordio incoraggiante, 1-0 contro l'Arzanese, il Foggia si prepara ad un altro appuntamento di Coppa Italia. Mercoledì 28 è atteso sul campo della Casertana. Mister Pasquale Padalino sta intensificando gli allenamenti per consentire ai giocatori di raggiungere la forma fisica migliore. Adesso non sono al massimo, devono acquisire maggior velocità e forse le prime partite del campionato vero e proprio ne potranno un po' risentire. Comunque si va avanti provando e riprovando anche nuovi ingressi. Non farà parte del Foggia il difensore centrale Aprile, che agli allenamenti ha partecipato per pochi giorni. Non era quel che Padalino cercava. Attualmente sono in prova il difensore Pucci, i centrocampisti Sicurella, Benitucci e Carpani e il portiere Narciso. Per Benitucci e Narciso il contratto dovrebbe essere vicino. Narciso però per giocare dovrà aspettare sino al 15 settembre, quando avrà smaltito la squalifica. La prossima settimana dovrebbero firmare anche i due esterni, Licata e Enrichella. Si cercano ancora altri esterni ed una punta. Prosegue la campagna abbonamenti. Sinora ne sono stati sottoscritti quasi 900.